Il fuso radio l'abbiamo già preso, sono le otto del mattino che vuoi che in Italia non ci alziamo alle otto del mattino naturalmente noi Fabietto, Cristiano Ronaldo, andiamo fregato L'Anhels è down against 10 in Germany's favor Tante un po' Pericoloso questo tandem Metà strada tra Los Angeles e la Svens? Esattamente sono a Barstow Una ridente cittadina a nord di Los Angeles, 140 km Sosta Tennis, dentro c'è Flavio Ferrari Zumbini con la sua felpa da meno 40 gradi Lamberjack Slam, 18 odds, 1000 calorie 1000 calorie Sì 60 grammi di grasso, 500 calorie di grasso 500 calorie di grasso? Sì Abbiamo assaggiato eh Abbiamo assaggiato eh Abbiamo assaggiato Consumare 3.000 calorie in 20 minuti 3.000, 3.500 insomma Non è che sottilizziamo un po' Prenderemo un dolcetto dopo forse Abbiamo 취ato Uneremo ? Forse Bambi fr Sister Russia Al alan e che fai l'esperto di vini? è una lezione di vini champagne, blanc de noir e blanc de blanc, blanc de blanc abbiamo preso un vino noir che non c'entra un cazzo però è un gombola capito mi tocca guidar pure a me stasera non ce la faccio metteremo piccolo campione del mondo guarda che era ci dobbiamo mettere la maglietta d'Italia ci vedo molto bene voi ci avete ne creato noi ci abbiamo assurriato qui la 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 veloce la la Oh, c'era il bottiglione di Shantai. Prendiamo il bottiglione di Shantai. Dici, Dici, Dici! Dici, 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 Dici! Dici, 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 Dici! Dici, 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 Dici! Dici, 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 Dici! Un tango dedicato a chi? Un tango a Clady Come stiamo? Facciamo scala con 3 Un tango a Clady Un tango a Clady 4-4 3 3 1 4 5 2 1 1 1 100 200 400 Cos'è questo? No, via, che dà, dà Quello è buono, ma la verità. Però io non posso, non posso. No, capito, nel senso non è una cosa che sembra cinese, sembra la nostra cattolazzina. Vuoi avere la cattolazzina? Non ho bisogno avere la cattolazzina. Non ho questa cattolazzina. Siamo in un ristorante scelto da Gaetano Preide. Allora, il buon Gaetano Preide ci ha portato in questo posto tipico. Dove si cucina a Pugliese. Ragazzi, non mangio da altri giorni, mi portano un cattolazzino. Che in realtà è un giapponese, però... Non c'è niente alla cima di rapa. Però per stare comodi abbiamo invitato... Ciccanele, buone. La melica. Che a sapere in tavolo, eh, sarebbe bellissimo. No, su questi tavoli abbiamo almeno due, un gelatore che da vento più di 4 milioni. Beh... Beh... Perché c'è... Ah, è vero. Un botto. Fabio... Complimenti. È stato bello. Sto bevendo molto sacchi e il mangiare non arriva, quindi... Non lo so. Non so come va a finire. È un po' un problema, tanto guidi te, Silvio. Che cazzo vuoi? Sì, alla tua destra abbiamo fatto un milione... No, Doug lì ha vinto un milione, due, milione e tre in carriera. Vabbè. Un milione e mezzo. Poco. Min Fabio. Grande. Foto. Doug è uno del team qui. Vorrei fare un brindisi a Paolo. Michele Massa che c'ha una pazienza. Del giaguaro. È stato là tutto il tempo... Ma padre Mauro, Michele... E senza vedere neanche un gioco a parte tex. Sì. Una volta risultava quando perdevo la mano. Poi quando avevo il piatto all'altro non ci rendeva conto che non doveva risultare. Però va bene, guarda... Ma padre si parlava... Mi mette i piedi... Ah! Ma che sei ma... Tu stiona, oh? Mi metti i piedi dentro l'altro. Oh, Silvio. C'è una leva... E calda. Tu stiona. Un bollente, Michele. Senti che... A me mi scotta, oh. No, a me mi piace. No, a me mi piace.